Ho chiesto a Mario, ho detto che è una decisione tecnica, una decisione dell'allenatore, non è soddisfatto di quello che sta facendo, quindi lui deve dimostrare con gli allenamenti e con le partite di far cambiare idea al proprio allenatore, così come devono fare tutti i giocatori che sono messi in discussione. Ho detto che fra due giorni avrà un'opportunità importante e quindi di prepararsi bene. No, no, assolutamente zero leggerezza. L'ho trovato preoccupato perché ovviamente se il suo allenatore gli dice che fa delle scelte è proprio perché vede altri che sono più in forma di lui, quindi il giocatore deve fare le riflessioni. Il giocatore ha solo un'arma, deve andare in campo tutti i giorni, tutti i giorni per dimostrare all'allenatore che si sbaglia, per dimostrare che lui è forte quanto gli altri e quindi mettersi in competizione, in concorrenza e farsi trovare pronto.